buongiorno amici e benvenuti ai test di studio 137 allora stamattina parliamo di un nuovissimo microfono uscito da poco il warm audio VA19 che sarebbe questo qui il microfono esce ovviamente con la sua scheda tecnica con la clip una bella borsetta imbottita in cui poterlo conservare eccetera eccetera allora prima di tutto voglio dirvi che questo microfono è una riedizione di un microfono storico degli anni 60 ovvero la KG D19 che è stato il microfono che hanno utilizzato i Beatles sia live che in studio di registrazione a Yebby Road appunto all'inizio della loro carriera negli anni 60 i primi 3-4 anni se non mi sbaglio è stato utilizzato moltissimo questo microfono per la ripresa sia delle voci live sia in studio della batteria di Ringo Starr le chitarre amplificatori insomma ci hanno fatto diverse cose per cui è un microfono molto conosciuto dai specialmente dai fan dei dei Beatles molto particolare una linea ovviamente molto vintage divertente interessante quindi diciamo può dare un tocco di originalità alle vostre performance la cosa ovviamente di cui parliamo oggi è l'aspetto tecnico del microfono allora prima di tutto questo è un microfono dinamico unidirezionale cardioide ha una risposta in frequenza di 30 18 mila hertz ha una griglia qui questa questa ghiera anzi una griglia una ghiera che con cui potete tagliare le basse frequenze anche se secondo me non ce n'è bisogno poi vi dico perché lo trovate in questa colorazione molto bella che poi la colorazione originale color nickel oppure eventualmente c'è anche la versione nera costa 218 euro più o meno ed è ovviamente ispirato appunto all'originale infatti su internet ho visto anche delle delle diciamo delle dei video recensioni in cui lo mettono proprio a confronto con l'originale degli anni 60 ed è un microfono ed è appunto molto molto il suono molto molto simile già vi dico che io l'ho provato ovviamente sulla voce e secondo me non è un microfono particolarmente adatto alla voce ed è adesso vi dico anche perché poi lo sentiamo per un paio di motivi che adesso vi dirò adesso lo attacchiamo ve lo faccio sentire così vi rendete subito conto della di che cosa si tratta eccolo qui warm audio allora se ci fate caso il suono è molto aperto sulle alte frequenze ma a molti pochi bassi io per se per stare un po più ad avere un poco poco di bassi in più mi devo proprio attaccare al microfono e se mi attacco al microfono insomma il microfono non ha una resa particolarmente buona quindi l'ideale è chiaramente stare un pochettino più distante mi piace sulle alte frequenze ma non mi piace sulle basse sulle basse diciamo già a poco corpo poco colore come microfono un'altra cosa che lo rende sconsigliabile da utilizzare almeno da utilizzare sulla voce per il live perché è abbastanza rumoroso per cui secondo me è un microfono da utilizzare fondamentalmente potrebbe essere utilizzato come appunto hanno fatto all'epoca i beatles più per secondo me per registrare cose che hanno hanno bisogno di una di una bella spinta sulle alte frequenze per cui per esempio i piatti della batteria io penso ai piatti della batteria penso una chitarra acustica in strumming dove le basse sinceramente semmai ce le vado a tagliare perché non mi servono principalmente lo userei per quello per la voce mi sembra veramente poco poco corposo per cui preferisco sicuramente un microfono diverso ovviamente oggi con anche in studio per registrare queste cose ci sono dei microfoni a condensatore quindi probabilmente possiamo usare altra roba però ovviamente questo qua essendo un dinamico ha un suono un sound molto vintage per cui ovviamente è un po' riservato e indirizzato a chi vuole ricercare ritrovare quel tipo di sound grazie a tutti e alla prossima